orribile è partita una sigla non funzionante nessun problema intanto un ben trovati e ben trovati a questo appuntamento che periodicamente facciamo abbiamo avuto una piccola pausa dovuta a un impegno lavorativo che avevo e che rendeva diciamo inopportuno svolgere i quiz durante queste attività e le riprendiamo e sono quiz in diretta quindi preparatevi su youtube per rispondere non nella chat dei commenti ma nel sondaggio nel riga blu che vi apparirà in alto rispondendo l'opzione a b o c è un quiz preso da una prova reale di un concorso fra l'altro di un recente concorso una presa elettiva in regione toscana per un concorso per categoria di amministrativo quindi troverete domande di costituzionale di amministrativo ma anche sui fondi comunitari per questo è molto interessante lo dico perché si sta preparando perché il tema pnrr fondi ue è un tema sempre più di attualità intanto saluto tutti quelli che sono presenti e ringrazio ovviamente della partecipazione vediamo un po vedo anche un buon numero di partecipanti sia su instagram che di la allora buongiorno una domanda l'assistenza rupp interna viene valutata prima di procedere all'affidamento esterno altrimenti rischio il danno in ariale certo certo ma nel caso in cui all'interno dell'uffi immagino non ci siano però devo procedere ogni incarico esterno deve essere preceduto da un'analisi interna che significa scrivere a tutti gli uffici o ai dirigenti di tutti gli uffici chiedendo se ci sono professionalità in grado di svolgere l'assistenza rupp se non rispondono entro il termine assegnato 5 giorni 7 giorni 3 giorni quello che volete o rispondono negativamente si può procedere all'esterno ovviamente a condizione che ci sia necessità doppia condizione ci deve essere necessità di un'assistenza rupp cioè rupp non ha le capacità e professionalità due non ci sono professionalità interne intanto mariada dice ho cannato le domande sui fondi e al mio concorso quindi grande rivincita mariada ma non è bisogno ora ormai non è più bisogno allora vedo che sono numerosi partecipanti chiedo anche chi volesse di mettere like alla diretta mi farebbe molto piacere vedo molti l'hanno già fatto allora prepariamoci con la domanda numero 1 e le tre opzioni volevo solo dire che secondo me il live at pompei del prof ha superato per visualizzazioni quello dei pink floyd grazie grazie mille grazie mille allora pronti a partecipare chi è in questo momento siamo in diretta anche su instagram chi è su instagram clic scriva nella chat dal vivo chi è su youtube clicchi sul sondaggio partiamo con la prima domanda io intanto mi allargo per coprire quella dopo sennò vi crea confusione basta il fondo sociale europeo è il principale strumento a con cui l'ue cerca di contribuire a generare all'incirca 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tre anni b con cui l'ue cerca di fornire alle operazioni di investimento della bei una capacità di rischio rafforzata c utilizzato dall'ue per sostenere l'occupazione aiuta i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti che cos'è questo fondo sociale europeo acronimo fse grazie claudia intanto prof quando in versilia intanto prato non è lontano dalla versilia e quindi elena se vuoi domani vi ricordo in live in presenza alla camera di commercio di prato dalle 9 alle 14 a un'oretta poco meno dalla versilia o grandissimo alessandro mi scrive idonio in polizia locale intanto guardo le vostre risposte voi intanto continuate a rispondere volete fate commenti io alterno allora sto vedendo le risposte che stanno arrivando ora inizia a chiedermi tutte le città quando a genova anche genova presto fatemi fare anche le ferie non dovrebbe essere l'fse plus quello attuale sì ma qual è il problema la domanda non è sull'fs plus guardate che si possono fare domande anche su norme pregresse fondi superati fra l'altro sono ancora in corso la rendicontazione dell'fse ma lasciamo perdere quindi non si criticano mai i quiz si risponde comunque giusta osservazione la programmazione la nuova programmazione parla di fse plus anche se l'acronimo è sempre fondo sociale europea allora terminiamo il sondaggio con un buon numero di voti e la risposta esatta è ovviamente la c la c utilizzato per sozionare l'occupazione aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro fondo sociale quindi va verso diciamo le quelle che potremmo chiamare politiche attive del lavoro quindi trovare occupazione per chi non ce l'ha assicurare opportunità lavorative più eque per i cittadini non ha niente a che vedere con gli investimenti né quelli finanziari della banca europea degli investimenti quindi la b non c'entrava niente ma neanche per generare i investimenti aggiuntivi quindi di carattere economico bene andiamo alla numero 2 vediamo la numero 2 se è più fattibile la 2 mi dice nell'ambito del diritto europeo il fondo per una transizione giusta a è il principale strumento con cui l'unione cerca di contribuire alla generazione di 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tre anni secondo il dispositivo dell'articolo 54 del trattato di funzionamento dell'unione europea questa è la prima opzione 2 è il principale strumento utilizzato dall'unione per sostenere l'occupazione aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliore oltre a assicurare opportunità lavorative più eque per tutti ve lo dico subito questa è la risposta giusta di quella precedente quindi non può essere questa si scarta 3 sostiene i territori più colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica e mira a prevenire l'aumento di disparità regionali qual è la risposta esatta come vedete a volte io consiglio non date subito una risposta magari leggetele tutte e poi tornate indietro perché a volte la risposta giusta o alcune opzioni da scartare sono le risposte successive ecco che vedo i vostri interventi anzi angela ha risposto alessandro uguale sto parlando di instagram mentre su youtube non li vedo sono anonimi tiziana ok vu questo insomma questo ancora più semplice di quello precedente come risposta perché una la scartavamo sicuramente poi fondo per una transizione transizione giusta fondo per una transizione giusta parola chiave transizione che ricorre nella risposta c e quindi chiaramente la risposta giusta è la risposta c quindi sostiene i territori più colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica allora due domande abbastanza semplici nonostante siano sui fondi comunitari che non è sempre una materia semplice da sviluppare allora andiamo a vedere la prossima domanda in materia di diritto europeo gli atti delegati sono a non legislativi che integrano o modificano determinati parti non essenziali di atti legislativi sono adottati dalla corte dei conti sulla base di una delega esplicita concessa in un atto legislativo e in consultazione con gruppi di esperti due non legislativi che integrano modificano determinate parti non essenziali di atti legislativi sono adottati dalla commissione sulla base di una delega esplicita concessa in un atto legislativo in consultazione con gruppi di esperti quindi come la ma cambia soltanto il soggetto non corte dei conti commissione tre legislativi che integrano modificano determinate parti essenziali di atti legislativi sono adottati dalla commissione su base di una delega esplicita concessa in un atto legislativo e in consultazione con gruppi di esperti qui il tecnicale la fa da padrona con il tecnicale risponderete senz'altro in modo corretto a questa risposta ecco angela sempre per prima che risponde complimenti anche la velocità può aiutare mi aiuta avere più secondi poi per le prossime risposte come mi viene suggerito di suggerire leggete sempre bene due volte la domanda gli atti delegati vi dirà tutto questa risposta e intanto grazie ai like che stanno crescendo se crescono ancora di più meglio allora vediamo vediamo un po che cosa andate a rispondere allora questo è un pochino più difficile ma solo perché secondo me un po vi siete distratti perché ripetiamo adesso le regole del tecnicale e vediamo se sono applicabili qui c'è una doppia regola ricordo per chi non l'avesse seguito il tecnicale sono le tecniche di alessandro chiarelli mio figlio che ha ricondotto a sette regole che sono frequentemente utilizzate nei quiz e che al 95 per cento aiutano arrivare almeno alle due opzioni spesso alla risposta giusta non sempre per cui serve la preparazione ma possono aiutare bene niccolò ci saluta ciao niccolò per spoiler ne ho sbagliate tre sono passato grande niccol complimenti e ora ti aspetta la prossima prova ivano dice grazie al tecnicale ho preso due in unità grandissimo trasferisco i complimenti ad alessandro che poi prima della fine ci verrà anche a salutare allora termino il sondaggio allora come si ragionava in termini tecnicale vedete la a e la b sono identiche cambiano solo per una parola 95 per cento delle volte la risposta giusta è fra la a e la b quindi scarto la c dopodiché cerco in una delle due una parola che è in quella che ho scartato in questo caso è commissione notate la commissione e quindi la risposta giusta è la b questo mi direbbe il tecnicale dopodiché ci ragiono in termini giuridici non di tecnica di quiz e confermo la b ed è la b la risposta esatta perché ovviamente atti delegati delegati la potestà normativa a livello comunitario è sempre del parlamento e della commissione in primo luogo della commissione poi del parlamento quindi la corte dei conti non c'entrava niente quindi quella la potevo anche scartare già dall'inizio quindi vedete come ci si arriva abbastanza bene attraverso queste tecniche per chi non sapesse cos'è il tecnicale o avesse dei dubbi va su youtube chiarelli youtube tecnicale e prova il video allora altra domandina molto tecnica qui non c'è da ragionare vediamo se si può utilizzare anche qui il tecnicale che è il core per è stato riconosciuto giuridicamente nel 1987 con l'entrata in vigore dell'atto unico europeo b il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli stati membri dell'unione europea c organo di ripartizione della commissione europea che cos'è sto core per allora qui qua è quasi una domanda di logica è più che una domanda diciamo di diritto comunitario valeria mi chiede ma il quiz della regione toscana si confermo è la preselettiva categoria d di regione toscana allora vediamo 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 un po eccole qua che stanno arrivando le risposte allora intanto che cosa potrei intuire dal nome core per sembrerebbe potrebbe essere un acronimo core per non è un nome comune è la commissione il consiglio core per sembra un acronimo per cui se core per è un acronimo magari vado a vedere nelle risposte se la b comitato co di rappresentanti permanenti ok poi all'inglese core per è sicuramente la risposta corretta comitato co di rappresentanti dei governi degli stati membri ora la c andava scartata organo di ripartizione della commissione la commissione è un organo unitario ok è il massimo organo unitario che esiste nell'unione europea semmai era la a ora la a stato riconosciuto giuridicamente cioè come se in europa ci fosse un paese che si chiama core per quindi se non perdo la calma e leggo la a uno stato ma io conosco l'albania la macedonia posso di nomi strani l'ikestine ma il core per è più strano dell'ikestine ok la c la scarto perché non è logica mi rimane la b quindi anche questa non difficile andiamo alla 5 intanto mi dicono ora aspettate intanto metto la 5 poi rispondo alle vostre commenti secondo quali criteri sono ordinate le fonti del diritto italiano a solo competenza e cronologia b gerarchia competenza e cronologia c solo gerarchicamente rispondete e usate il tecnicale se potete e intanto mm dice nel frattempo faccio gli auguri ad ali per la maturità e la patente grazie tante al è già lanciato adesso all'università già fatto i primi colloqui per l'iscrizione all'università e sta prendendo la pratica sta facendo pratica di guida anche oggi siamo andati a fare un'oretta di pratica allora poi vi aggiorneremo anche su quelli sugli sviluppi vediamo vediamo le vostre risposte secondo quali criteri sono ordinate le fonti del diritto italiano anche qui ci aiuta il tecnicale c'è una regola del tecnicale abbastanza semplice qui vedo che su youtube sono diciamo ormai quasi l'un plan si scartano le risposte con la parola solo od esclusivamente si scarta la c per una doppia ragione primo perché c'è scritto solo secondo perché parla di plurale la domanda quali criteri quindi non può essere solo gerarchicamente quindi rimanevano la e la b ma gerarchia competenza cronologia anche se diciamo non sono tutti sullo stesso livello si può discutere se possono essere messi sullo stesso livello ma diciamo era l'unica risposta coerente non necessariamente giusta ma la meno sbagliata allora andiamo con la 6 è materia di legislazione concorrente ai sensi del 117 la moneta la tutela del risparmio i mercati finanziari la tutela e la sicurezza del lavoro o le norme generali sull'istruzione ricordo che l'articolo 117 lo chiedo a chi mi sta seguendo su instagram o su youtube è soprannominato in un particolare modo intanto ale ti fanno gli auguri fra un po' il compleanno di alessandro quindi arrivano anche gli auguri ma il gatto piau dov'è? no no noi siamo in campagna in questo momento quindi non c'è il gatto piau ale vieni a salutare grazie per gli auguri qui siamo su instagram e lì siamo su youtube si buonasera agli utenti di instagram buonasera agli utenti di youtube laggiù ti fanno gli auguri per la maturità per l'università per l'università eccola qui grazie per l'università per tutto quanto e per gli auguri di natale eccoci qui allora è materia di legislazione concorrente qualcuno vuole entrare in diretta no ma non si può ti ricordi qual era la filastrocca che abbiamo imparato a memoria? no la filastrocca cosa abbiamo imparato a memoria? eccola la francesca latte lilla i primi 100 numeri della radice quadrata i primi 80 no no ma c'è l'articolo 117 della costituzione latte lilla cercate su youtube chiarelli latte lilla e lo trovate allora vediamo un po' qui attenzione qui non abbiamo una netta 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 quantità di persone che hanno indovinato la 6 sempre una buona maggioranza perché la moneta direi proprio di no legislazione concorrente ora va bene il fiorino ma in Toscana non c'è più il fiorino vero Ale vieni qui un qua quindi non c'è più il fiorino poi le norme generali sull'istruzione ovviamente quella parola generale esclude la legislazione concorrente delle regioni quindi rimane la tutela e la sicurezza sul lavoro anche se può sembrare strano che la sicurezza sul lavoro sia regionale in realtà è regionale molto legata alla sanità anch'essa concorrenza legislazione di competenza concorrente siamo arrivati alla numero 7 Ale prova anche te a indovinare la 7 con il tecnicale Ale te la leggo guardala là sopra pronti attenti via la 7 è ai sensi del 118 della Costituzione la legge regionale disciplina, forme di intesa e coordinamento nelle materie di tuteli e beni culturali oppure la legge statale disciplina, forme di intesa e coordinamento nelle materie dei beni culturali oppure la legge costituzionale disciplina, forme di intesa e coordinamento nelle materie di tuteli e beni culturali che tenga forse il 118 della costituzione può far escludere un'opzione quale escluderesti la sicuramente la non ti piace il regionale perché la costituzione parliamo di costituzione italiana quindi potrebbe riferirsi allo stato italiano e costituzionale perché c'è costituzione quella b o è la c e qui bisogna saperlo tu cosa ha sensazione e intuito secondo me può essere dai spara statale b dici la b vediamo quanti hanno risposto come te allora in effetti qui stanno arrivando i voti intanto siamo 124 in diretta su youtube una trentina su instagram vediamo vediamo un po eccoli qua pochi like sono tirchio like va bene ma noi li perdoniamo allora terminiamo il sondaggio vediamo che comunque molti hanno indovinato come hai fatto te legge statale che disciplina le forme di intesa e coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali ok non era esclusa la legge costituzionale ma legge costituzionale diciamo è riservata a particolari ambiti non questa basti pensare che i servizi coprono in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono di competenza delle aziende sanitarie ottima osservazione allora leggi pure la domanda 121 Ale mentre io faccio l'ottavo quiz l'articolo 121 della costituzione italiana stabilisce che l'organo esecutivo delle regioni è il consiglio regionale la giunta regionale oppure il governo della regione sicuramente se ne esclude una ragione va vai parla d'alta voce e vediamo che può essere abbastanza trabocchetto si esclude la c perché nella a e nella b è presente la parola regionale mentre nella c solo della regione e mi sembra che qualche cosa di consiglio qual è la regola si legge la domanda si le toglie un'opzione si rilegge la domanda nella domanda c'è una parola esecutivo cosa ti richiama che consiglio sia qualcosa più di legislativo per cui è la giunta sentilo la il giurista cambia cambia idea sulla facoltà no no io mi tengo informatica va bene va bene io ci provo odio le materie umanistiche odio esagerato esagerato ma sei nella patria di dante non puoi odiare le materie umanistiche non è il tuo forte non ti piace non ti stima ho capito tanti sono morti allora bene 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 guarda qua 96 per cento questa era veramente semplicissima la giunta regionale non c'era dubbio allora io vado grazie ciao ale buona gli auguri e di tutti gli auguri arrivederci utenti di instagram e di youtube allora andiamo a fare la 9 l'articolo 23 comma 1 del decreto 33 2013 dispone che le pia pubblicano e aggiornano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di inizio politico e dai dirigenti ogni a anno b sei mesi c due anni questa non è facilissima questa non è facilissima allora vediamo un po che cosa mi dite decreto trasparenza decreto 33 2013 dispone che le pia pubblicano e aggiornano questi elenchi dei provvedimenti ok vedo anche su instagram stanno rispondendo insomma vedo persone insomma tendenzialmente preparate anche alle domande un pochino più trabocchetto questa poteva sembrare all'apparenza più trabocchetto perché la risposta esatta è sei mesi due anni è raro che ci siano adempimenti biennali l'anno poteva sembrare qui è l'elenco è non sono i singoli provvedimenti singoli provvedimenti vengono pubblicati tempestivamente l'elenco a carattere semestrale quindi 58 per cento ha indovinato la numero 10 allora articolo 6 bis della 241 in caso di conflitto di interesse anche potenziale il responsabile del procedimento dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri valutazioni tecniche gli altri non procedimentali del provvedimento finale a devono pagare una multa b non devono mai astenersi c devono astenersi segnalando ogni situazione di conflitto ora come vedete per essere una presa elettiva per categoria d non erano impossibili non erano impossibili almeno quelle finora poi vediamo le prossime ma fino a questo momento con il tecnicale con un po di ragionamento si poteva indovinarle tutte poi vi chiederò quante ne avete indovinate ecco qui che stanno arrivando i voti sulla numero 10 anche qui abbastanza uniformi ovviamente è la c sono in conflitto non devo astenermi pagare una multa era un trabocchetto è il dovere di astenersi senza dubbio la risposta giusta 11 il diritto di accesso si esercita mediante sottolineato quindi bisogna inserire la parola mancante il diritto di accesso si esercita mediante di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalla 241 l'esame di documenti è gratuito quale risposta completa la frase con riferimento all'articolo 25 della 241 a esame e manipolazione quindi il diritto d'accesso si esercita mediante esame e manipolazione b il diritto d'accesso si esercita mediante estrazione e contraffazione c il diritto d'accesso si esamina si esercita mediante esame ed estrazione a b e c multa non è neanche un termine corretto come sottolinea già luigi la multa è una sanzione penale che usiamo nel linguaggio comune per indicare una sanzione amministrativa cosa che in realtà non è tutte e due due sono esilaranti diciamo una è particolarmente esilarante non stupisce noi italiani però diciamo il fatto che qualcuno possa avere dei dubbi qui mi aspetto il 100% al netto di qualche errore queste sono risposte serie risposte da banca dati ora questa veramente è anche troppo facile si faceva prima a dare la buona per tutti quanti in quanto esame ed estrazione ok non c'entra niente la manipolazione o la contraffazione assurde bene speriamo di trovarne una più difficile allora una delle opzioni di risposta riportate di seguito contiene un elemento accidentale dell'atto amministrativo quale a la condizione b l'oggetto astratto c il destinatario anche queste sono nozioni elementari da primi capitoli del manuale di diritto amministrativo i da schifata mi dice in chat non si possono sentire vada e retro eppure sono date ad una prova di categoria d ok ecco qua le vostre risposte che stanno arrivando anche qui elementi essenziali gli elementi accidentali dell'atto amministrativo terminiamo il sondaggio la risposta esatta ovviamente è la condizione l'oggetto fra l'altro astratto non significa niente il destinatario è un elemento essenziale 13 la 13 mi dice secondo l'articolo 24,4 della legge 241 l'accesso ai documenti a non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento b può essere sempre negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento c si applica solo nel caso di studi approfonditi di settore e ne sono esclusi i singoli cittadini a b o c puma te l'ho promesso ok a metà settembre tu mi segnalerai e io partirò con il corso benedetta dice la mia prova era più complessa il baffista ci dicono semplici in questo giuseppe dice in questo momento mi sento come rocky balboa quando butto a terra ivan drago pensare che non andai a fare sta prova a mai mai esiste un proverbio che vi dovete sempre ricordare un po brutale romanesco non ve lo dico ve l'ho già detto in altre dirette ma non ve lo dico intanto mmm ha visto puma mmm scrive puma ci siamo visti il giorno 11 luglio adesso iniziamo perché sapete che c'è la ricerca nella mia chat di puma è una delle persone più ricercate che esistano stavendo una visibilità una diventato più famoso di me stesso allora vediamo un po le vostre risposte anche questa eravamo arrivati alla 13 alla 13 che ovviamente la risposta giusta è la non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento la c è uno specchietto per la lode si applica solo nel caso di studi approfonditi di settore perché poi gli studi generici no e ne sono esclusi singoli cittadini dall'accesso assurda è scritta talmente contorta che poteva sembrare giusta per il fatto di essere contorta ma non ha nessun senso logico 14 la 14 mi dice ai sensi dell'articolo 25 comma 3 della legge regionale toscana 1 2009 se non siete della toscana non importa pensate alla legge sul procedimento non possono accedere all'impiego alla legge sul pubblico impiego non possono accedere all'impiego regionale a solo coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico passivo b solo coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo c coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni qui manco a dirlo manco a dirlo tecnicale a palla io vi dico questi sono quiz da 30 su 30 ok almeno fino ad ora e poi vediamo i prossimi ma almeno fino ad ora sono quasi alcune domande sono quasi imbarazzanti e non da nemmeno da fare ad un di allora vediamo le vostre risposte in questo caso la risposta giusta è la c si tolgono quelle due con il solo rimane la più completa questa è la classica x più y dove la risposta giusta è la somma delle due risposte parziali e andiamo alla 15 siamo al giro di boa adesso andrò più veloce l'instaurazione dell'apporto di lavoro ai sensi dell'articolo 26 del dpgr decreto del presidente della giunta regionale 33 2010 a può avvenire solo a tempo indeterminato b non può avvenire a tempo parziale c può avvenire anche a tempo parziale non vi interessa qual è la norma provate a ragionare ecco questo è più interessante perché sembrerebbe nozionistica cioè richiedere la conoscenza dell'articolo 26 di questo regolamento cosa che quasi nessuno sa ma se astraggo dalla norma ok beh beh intanto favella si lamenta dice non mi ha fatto votare sparito perché il quiz esce prima che lei legga la domanda no chi è indifferito chi ha uno streaming basso nel senso che ha una connessione lenta può darsi che riceva il segnale più lentamente questo però non ci posso fare niente perché assicuro che la maggior parte di vota quindi se ho 100 voti vuol dire che è un problema di streaming di chi riceve per il 117 ripasso la fila strocca assolutamente francesca regole generali sul pubblico impiego assolutamente confermo tutto quanto allora terminiamo il sondaggio anche questo era abbastanza semplice nel senso che tolgo la risposta con il solo può avvenire solo a tempo indeterminato non può avvenire a tempo parziale non ha senso l'instaurazione del rapporto di lavoro può essere parziale o non parziale a prescindere da questo regolamento quindi la risposta giusta era la c può avvenire anche a tempo parziale vediamo la 16 vediamo se si va un pochino più sul difficile la 16 mi dice regione toscana articolo 2 comma 3 della legge regionale 1 2009 puntini 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 devo scrivere cosa c'è in questi puntini oltre alle direttive generali può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria tecnica e amministrativa dell'ente chi può fare questa cosa chi può impartire oltre alle direttive generali direttive specifiche a la commissione di aggiudicazione b la giunta regionale c il comitato del lavoro pubblico questa apparentemente più dice apparentemente sia mai uno di questi tre soggetti oltre alle direttive generali può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria tecnica e amministrativa dell'ente la commissione di aggiudicazione la giunta regionale il comitato del lavoro pubblico vediamo le vostre risposte luciano risponde di anche michela anche gian luigi e anche su youtube c'è una netta prevalenza della b il baffista mi dice ne facciamo 30 si vai vado più veloce ne facciamo tutte 30 allora la risposta giusta è la giunta regionale per vari motivi primo la commissione di aggiudicazione non esiste la commissione giudicatrice quindi la A è tecnicamente e concettualmente sbagliata il comitato del lavoro pubblico figuriamoci non siamo mica nella Russia degli anni 70 quindi intanto chiedono qual è la filastrocca del 117 latte lilla cercate su youtube latte lilla allora andiamo alla numero 17 adesso più veloci e mi raccomando cliccate velocemente perché vi darò poco tempo il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana e gli è a. l'organo esecutivo b. l'organo di controllo c. l'organo legislativo è una delle risposte con la sci che ci si mangia quindi l'è l'organo esecutivo l'è l'organo di controllo o l'è l'organo legislativo il che è il consiglio regionale che rappresenta la comunità toscana forza dignine allora aspetto un po' di vostre risposte ma molto velocemente anche questa è la facilotta c'era un piccolo trabocchetto c'era un piccolo trabocchetto ma piccolino eh però qualcuno poteva essere tratto in inganno allora il trabocchetto dove stava sicuramente scarto la A l'organo esecutivo e la giunta la B poteva apparire perché il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma non è solo di controllo sicuramente è l'organo legislativo quindi sebbene la B non sia sbagliata ok? è parziale è meno corretta della C ricordiamoci questo concetto nei quiz ok? ricordiamoci questo concetto fondamentale nei quiz 18 ai sensi dell'articolo 4 di questa legge regionale la direzione generale della giunta regionale A è in posizione di autonomia e non gerarchicamente sovraordinata alle direzioni B è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e il coordinato delle funzioni C è in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'avvocatura anche questa pur non conoscendo la legge regionale e non conoscendo la direzione generale della giunta regionale ci si arriva se si conosce un po' di nozioni elementari di pubblico impiego Luciano dice B ma con il punto interrogativo non va bene bisogna sempre essere sicuri anche nello sbagliare forza 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 benissimo vedo che le risposte stanno arrivando e la risposta esatta è la B è gerarchicamente sovraordinata direzione generale soprattutto ne assicura l'esercizio organico il coordinamento delle funzioni quindi in posizione di autonomia e non sovraordinata le direzioni poi chi coordina quindi è evidente che la B la posizione gerarchica rispetto all'avvocatura assolutamente no l'avvocatura è indipendente all'interno dell'organizzazione quindi ci si poteva arrivare abbastanza bene 19 A B C ai sensi del 18 bis del 118 il fine del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio la contabilità è A dividere i vari bilanci in base a criteri finanziari B consentire la comparazione dei bilanci C non consentire la comparazione dei bilanci tecnicale e risposta esatta vediamo un po' bravissimo Fabio tecnicale e risposta esatta chi ha studiato l'armonizzazione contabile che per le regioni è molto simile a quella degli antilocali quindi COD 100 o COD 110 per i corsi allora il ragionamento da fare è ci sono due risposte antitetiche una consentire l'altra non consentire 95% delle volte la risposta giusta è una di queste due quindi mi concentro su quelle poiché il decreto 118 è il decreto di armonizzazione contabile ne deriva che la risposta giusta è la B senza altro ok armonizzazione contabile quindi comparazione dei bilanci anche questa facilotta vediamo se ne arrivano un po' più difficili per vedere di fare un po' di scrematura guardate che qui forse si vinceva con tre due risposte sbagliate non di più tre o quattro non lo so non ho visto le statistiche a norma dell'articolo 38 del 118 le leggi regionali che dispongono spese a carattere A sociale indicano la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi ma non anche l'ammontare complessivo della spesa B pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa ma non la quota eventualmente a carico del bilancio in fine e degli esercizi successivi C pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa non che la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi direi che anche questa è una domanda insomma tecnicale ne scartate subito una di concentrate sull'altra una è logica l'altra è logica ci vuole poco scusatemi mi sa che non vi ho mandato il sondaggio adesso ve lo mando mi perdonete un attimo eccolo qua vi mando il sondaggio della numero 20 comunque rispondete in instagram tecnicale ovviamente qui suggerimento scartiamo la A perché è diversa dalle altre due quindi rimango la B e la C nella B mi dice che ma non la quota eventualmente a carico del bilancio infine ma questo può essere un errore cioè alla fine diciamo finale potrebbe essere e ovviamente la risposta esatta è la C di Como ok pluriennale indicano l'ammontare della spesa nonché la vuota eventualmente a carico del bilancio in corso degli esercizi successivi principio di competenza finanziaria non potenziata quello potenziata riguarda un altro aspetto però diciamo il principio è quello di competenza finanziaria allora ABC 21 ai sensi del decreto 118 la relazione sulla gestione allegata al rendiconto di un ente pubblico A contiene unicamente il prospetto di quadratura B a contenuto libero C è un documento illustrativo della gestione dell'ente qui ve la leggo velocemente perché chi mi segue in questi commenti ai quiz ci arriva istantaneamente le parole contano tutto il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico l'uso di certe parole rende sbagliata la risposta quindi questa veramente quasi istantaneamente arrivo alla risposta esatta anche se non la conosco perché chi se lo ricorda l'articolo 11 dell'11 oppure l'allegato o l'articolo 1 non interessa non interessa l'articolo gli articoli fra parentesi sono messi solo per ingannare però come vedete bene la A è unicamente si scarta la B a contenuto libero a discrezione di ciascun ente alla faccia dell'armonizzazione contabile l'abbiamo detto prima la tematica è l'armonizzazione contabile lì ho a contenuto libero un foglio volante un post-it ok 22 A B C secondo l'articolo 5 del 118 a cosa serve la codifica attribuita ad ogni transazione elementare più interessante questa A a tracciare le operazioni del personale B a tenere traccia soltanto dei piani di entrata ed uscita C a tracciare le operazioni contabili e movimentare il piano dei conti integrato tecnicale tecnicale anche questa allora per fare un riassunto stiamo andando verso la domanda numero 30 ad ora con il tecnicale se ne indovinava più del 90% anche senza conoscere molto la materia vi dico che chi avesse utilizzato queste tecniche spero qualcuno l'abbia fatto riusciva a passare questa presa elettiva qui vedo un unplanned abbiamo il 100% ovviamente delle risposte C quindi a tracciare le operazioni contabili e movimentare il piano dei conti integrato senza altro è l'opzione corretta andiamo alla numero 23 velocemente come vi dicevo adesso andiamo più veloci l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse in conto capitale per iniziative di parte corrente A è precluso B è consentito C è consentito al di sotto dei 100.000 euro vediamo la 23 si legge la domanda si toglie un'opzione si ritorna alla domanda si legge per bene la domanda e si trova la risposta anche questa per chi ha fatto un minimo minimo di contabilità ci arriva abbastanza bene neanche regionale contabilità pubblica anche contabilità di stato io partecipo con una bimba di 8 mesi e Bracco che vuole cliccare Bracco immagina sia il cane vai a Napia diciamo che con varie difficoltà è ancora più bello poi riuscire a vincere un concorso con delle difficoltà aggiuntive le belle difficoltà aggiuntive della vita allora qui vedo che ci sono molte più variabilità ecco iniziamo a entrare probabilmente in quella parte del quiz che fa la differenza dove si passa o si è fuori si passa o si è fuori allora qui vedo infatti che state rispondendo un po' tutte e tre le opzioni ok quindi mi raccomando ripassare la contabilità il trucco sta nella domanda non nelle opzioni c'è uno specchietto per la lodole in cui sicuramente molti di voi cadranno allora proviamo a dare le risposte allora consentito al di sotto dei centomila euro è uno specchietto per la lodole cioè un richiamo alla soglia prevista per la programmazione dei lavori pubblici che non c'entra niente con questa materia conto capitale sono le spese per lavori pubblici spesso ma non c'entra niente centomila euro quindi la c va scartata dopodiché cerco di ricordarmi di leggere la domanda l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse in conto capitale io ho soldi da investimento soldi da investimento che spendo in parte corrente niente vietato non si può precluso ok non si possono spendere somme destinate a spese in conto capitale somme per costruire il ponte per comprarsi le risme di carta non si può fare ok è vietato entrate da investimento finanziano spese da investimento punto quindi la risposta giusta era la A solo il 29% di voi ha risposto correttamente a questa questa è quella che faceva la differenza insieme ad altre ma diciamo è quella che faceva la differenza vedete i quiz non sono facili o difficili perché su 30 basta che ne trovi due o tre un po' più difficili e li vinco o perdo quindi devo essere sempre concentrato 24 ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 2015 la regione A non può ricorrere al mercato finanziario se non nella misura del 50% variabile B non può ricorrere al mercato finanziario per le anticipazioni a breve termine C può ricorrere al mercato finanziario anche con riferimento all'anticipazione a breve termine questa è veramente piuttosta ci si può arrivare con un po' di intuito e di logica Favella si è ricordata delle risme di carta bravissima Favella vedo che segui i miei video in una delle prime lezioni sul bilancio sottolineavo questo aspetto giustamente allora vediamo un po' le vostre risposte anche questa è insieme a quella prima vedete uno arriva alla 23 convinto facilissimo questo lo passo pum pum due inciampi e sei fuori questa la sbaglierete in molti e vediamo perché dove erano i trucchetti stupisce a volte come si perde la lucidità si perde la lucidità a volte quando si affrontano i quiz allora vedo che molti di voi hanno già risposto al sondaggio proviamo a spiegarlo allora terminiamo intanto la prima cosa da fare in questa risposta è scartare la A di Ancona perché non può ricorrere al mercato finanziario se non nella misura del 50% variabile scusate ma che cavolo significa o è il 50% variabile in quanto in più in meno in per in diviso cioè proprio linguisticamente non ha senso ma non ha senso quel variabile richiama aspetti finanziari ma è completamente illogica la A quindi il 22% di voi che ha risposto A perché dopodiché può ricorrere al mercato finanziario anche con le anticipazioni a breve termine è la risposta corretta non facile da individuare la B ovviamente poteva trarre l'inganno non può ricorrere al mercato finanziario per le anticipazioni a breve termine attenzione perché non poteva essere la risposta esatta perché nel diritto quando io trovo una negazione significa il diritto è sempre fatto da due facce della medaglia se nego una cosa ammetto tutto il resto quindi la lettera B la dovete leggere in questo modo può ricorrere al mercato finanziario salvo che per le anticipazioni a breve termine quindi sempre si può sempre ricorrere al mercato finanziario non può essere ok quindi può ricorrere al mercato finanziario anche con riferimento all'anticipazione a breve termine ma limitato ad alcune fatti specie quindi non facile non facile e anche questa molto molto selettiva vediamo se continuano le domande difficili oppure ritornano a quelle più facili con la 25 il DEFR è un atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività di governo della regione e una proiezione A semestrale B triennale C annuale anche di questo il DEFR ne parlo spesso grande favella che è tornata a studiare dopo oggi prof grazie a lei potrò sfidare Puma all'orale dopo gli iscritti grandissimi grandissimi fatevi una foto dai me la mandate sono curioso di vedervi entrambi fatevela prima dell'orale magari dopo uno dei due non avrà voglia di fare la foto insieme all'altro la diretta viene registrata sì la trovate sul mio canale youtube rimarrà sempre disponibile allora il DEFR che orizzonte temporale ha ovviamente scarto il semestrale troppo breve il DEFR è una programmazione minimo annuale ma in questo caso è triennale quindi la risposta giusta è la B DEFR triennale 26 allora ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1 il dirigente competente per materia a deve ottenere autorizzazione dal consiglio per disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati b non può mai autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore dei funzionari delegati c può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore dei funzionari delegati cosa sono i funzionari delegati cos'è il tesoriere proviamo a rispondere a questa anche questa ci si può arrivare un po' per logica si può non sapere la norma senza altro quasi impossibile conoscere la norma ma anche qui un minimo di conoscenza linguistica prima ancora che della materia e poi tecnicale sapete che una di queste si scarta per motivo di tecnicale vedo che un buon numero di risposte sta arrivando allora vediamo quale si scarta si scarta la b non può mai autorizzare mai gli estremi generalmente non sono risposte esatte nel diritto si scarta la a ottenere autorizzazione dal consiglio regionale un dirigente che svolge una funzione tecnica che è autorizzato dall'organo politico non ha senso quindi la risposta l'unica coerente è quella ci può autorizzare aperture di credito in favore di funzionari delegati ovviamente ovviamente non per fargli aprire il conto corrente personale per aprire diciamo linee di credito da utilizzare per la gestione amministrativa 27 siamo arrivati verso la fine non andate via perché vi chiederò quante ne avete indovinate su 30 per avere una statistica l'articolo 13 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici prescrive che il dirigente dove riceva segnalazione dell'illecito da parte di un dipendente mi sto trattenendo da ridere perché due di queste fanno ridere vediamo se anche a voi hanno suscitato la medesima ilarità questa veramente andiamo giù veloci allora velocissimi allora uno mi fa un esposto e io rendo immediatamente lui ha fatto l'esposto cattivo affinché riceva persecuzioni dovute cioè quello che ha fatto l'esposto che ha detto guarda che rubano in regione è perseguitato e viene detto a tutti pensate che bella cosa b attiva e conclude il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha segnalato l'illecito la b anche questa assurda quindi qui veramente cioè non è che ci vuole conoscenza giuridica per capire che la c ovviamente è la tutela del cosiddetto whistleblower 28 l'articolo 13 del gdpr regolamento sui dati prescrive che in caso di raccolta presso l'interessato i dati che lo riguardano nel momento in cui i dati personali sono ottenuti il titolare del trattamento fornisce all'interessato cosa a un elenco contenente le varie associazioni cui rivolgersi nel caso in cui ci sia una dispersione di dati sensibili b i link tramite cui seguire il procedimento di anonimizzazione dei dati e capitare il materiale c le finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento intanto vi ricordo che settimana prossima entra in vigore anzi no questa settimana entra in vigore la nuova disciplina sul whistleblower e viene abrogata la normativa del Tupi trovate il mio video su youtube di commento anche qui non dico facile di più di più di più ok la risposta giusta ovviamente è l'informativa che contiene le finalità del trattamento a dati personali la risposta C un elenco delle associazioni cui rivolgersi oppure i link dove anonimizzare dove criptare i dati veramente assurdo domandina un po' tecnica allora vediamo un po' se si riesce a sfangarla un DBMS è un salvaschermo che permette di non far andare in stand by il PC B un sistema software progettato per consentire la creazione e manipolazione e interrogazione efficiente di database B un potente antivirus progettato per consentire la creazione e manipolazione e interrogazione di altri antivirus online che cos'è questo DBMS anche qui ci si arriva una proprio non si può sentire ammesso che qualcuno ancora lo usi diciamo era ai tempi di Windows 98 che non si usa più il salvaschermo eccolo qua la risposta giusta è la B di Bologna un sistema software progettato per creare manipolare interrogare in modo efficiente un database ok non certo un potente antivirus progettato per interrogare altri antivirus online oh ma che ci state mandando i virus molto buffa database management system è la esplicitazione dell'acronimo last but not least come direbbero gli anglosassoni please select the best word to complete the following sentence dot 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 to school yesterday did you walk to school yesterday do you walk to school yesterday did you walk to school yesterday which is the right answer to this question mentre voi rispondete poi vi chiederò quante ne avete indovinate su 30 in modo tale da avere una buona statistica e vedere se c'è l'unplan e vedere con quante si passava a questa prova pochi secondi questo è molto semplice inglese inglese di base elementare the right answer is did you walk to school yesterday sei andato a scuola a piedi ieri allora adesso vi chiedo anche a voi che siete su instagram di indicarmi quante indovinate su 30 su 30 allora ecco qua vediamoci il sondaggio così capiamo lo dico sempre io non è che se ne avete fatto 28 siete messi bene dipende se ne avete fatto 28 e quasi tutti hanno fatto 27 siete messi bene se ne avete fatti 28 e quasi tutti ne hanno fatte 30 siete messi male perché non è un esame è una competizione non conta quante ne indovinate ne sbagliate conta quante ne indovinate ne sbagliate rispetto agli altri io purtroppo ho iniziato a seguire la diretta da dopo la metà ma le ultime 15 ne indovinate 14 vediamo se è un buon risultato sicuramente le ultime avevano un pochino più di trabocchetti rispetto alle prime Francesca rispondi nel sondaggio anche nella chat ma l'importante è che tu mi risponda nel sondaggio così io nel frattempo dico come sta andando e individuiamo qual è la soglia diciamo di superamento della presa elettiva non so quella reale quanto è non ricordo sinceramente non ricordo Federico dice 26 di mortimia facciamo un quiz ogni giorno fino a settembre ringrazio io ringrazio molto per la considerazione che avete sulla mia necessità di riposo in macchina non seguivo bene mi raccomando in macchina non si seguono le dirette come si fa a sbagliare due più semplici accade faccio harahiri dice Bassolino ma Giuseppe quindi sarà per la prossima volta allora intanto un saluto agli amici di Instagram e termino il sondaggio leggendo i risultati allora uno solo ne ha novinato 30 su 30 il 2% il 17% 29 su 30 cosa vuol dire che con 29 e 30 si passava alla presa elettiva con 27 28 forse con 27 28 sì con 27 forse no il 31% ne ha indovinate fra 27 e 28 il 48% fra 24 e 26 e se era fuori dalla presa elettiva benissimo io vi ringrazio per l'attenzione aspetto un attimo se avete qualche domanda da fare rispondo volentieri vediamo un po' se mi volete fare qualche domanda specifica allora vedo ringraziamenti vedo ringraziamenti intanto saluto gli amici di Instagram ecco qua allora grazie a Luna che saluta tutti quanti allora con coloro che ci saranno domani ci vediamo a Prato non so se ci sarà la diretta streaming non so se ci sarà la registrazione tenteremo di fare tutto quanto benissimo io vi ringrazio vi saluto a presto arrivederci io vi ringrazio attiv 격i ti lasi ti lasi che vi ringrazio si ci